Blizza all'alba di questa mattina delle forze dell'ordine nel quartiere Rancitelli a Pescara dopo l'aggressione al giornalista della RAI Daniele Pier Vincenzi alla sua truppa nel cosiddetto ferro di cavallo mentre stavano realizzando un reportage con la conseguente denuncia di tre persone. Questa mattina polizia, carabinieri, vigili del fuoco, polizia municipale hanno passato a setaccio il quartiere popolare. Lo scopo è stato quello di verificare se gli inquilini che abitano nelle palazzine atere hanno i requisiti e l'eventuale presenza di sostanze stupefacenti. I carabinieri della compagnia di Pescara, coordinati dal capitano Antonio Di Mauro, hanno controllato le case in via Lago di Capestrano con le unità cinofile di Chieti nella zona denominata Il Treno. In un vano ascensore i cani hanno fiottato la marijuana e in uno scantinato sono stati trovati proiettili di piccolo calibro. Il ferro di cavallo, invece, è stato presidiato da decine di poliziotti, coordinati da Dante Cosentino e Davide Zaccone, della mobile della squadra a volante del reparto prevenzione crimine, anche qui con l'impiego dei cani antidroga. Gli agenti hanno trovato circa un chilo di stupefacenti. Piccoli quantitativi di droga sarebbero stati gettati dalle finestre poco prima dei sopralluoghi, sul posto anche la polizia municipale e i vigili del fuoco. Alcuni residenti del ferro di cavallo hanno accettato di parlare con noi. C'è molta rassegnazione, oltre al timore da parte di alcuni di raccontare cosa accada in quella zona. Vive bene qui? Sì, sì, andiamo avanti. Si è un po' abituato? Ora è 40 anni che stiamo qua. Però non nascondiamoci dietro un dito, attività di spaccio ce n'è, non ci puoi dire di no, abusivi ce ne sono. Io le dico se c'è o non c'è, questo a me sinceramente non interessa. Però le posso dire che questi ragazzi in cui siamo noi siamo gente per bene, gente civile, gente che giustamente senza un lavoro cerchiamo di andare avanti. Adesso io canto. Se lo Stato fosse presente sì, sarebbe diciamo più gradevole, più lavoro per noi giovani. Tu lavori? Io no, ho lavorato. Uno cerca di difendersi, punto. Perché la gente dice qua ci sta la malavita, qua non ci sta, nessuna malavita, solamente ragazzi che hanno sofferto e basta. Ci stanno i pagliacci, non ci sono i clan, non ci sono né clan, né mafiosi, né questa, quattro pagliacci. Noi ragazzi, un lavoro per tutti quanti, non è che uno perché è delinquento, perché ha fatto dei reati, allora quando vai cercando lavoro ti cacciano da tutte le parti. Io sono un meccanico abusivo, mettiamola così, io non spaccio, non faccio niente. Storie difficili anche e soprattutto per i bambini che abitano qui e molti non denunciano per paura, ma in tanti hanno ribadito e richiesto la presenza delle istituzioni, perché qui oltre al pugno di ferro da parte delle forze dell'ordine occorre anche una riqualificazione e riabilitazione sociale in un progetto più ampio che non sposti il problema ma lo risolva una volta per tutte.